Accusati di ripetuti atti di violenza e tortura nei confronti dei detenuti, sei agendi della Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere Lorusso e Cotugno di Torino sono stati arrestati questa mattina ed ora sono tutti gli arresti domiciliari. Una brutta storia di una lunga serie di episodi iniziata nell'aprile 2017 e durata fino al mese di novembre dello scorso anno. Le indagini sono scattate dopo una segnalazione fatta dal garante delle persone private della libertà personale Monica Gallo del Comune di Torino e portata avanti dal pubblico ministero della procura della Repubblica di Torino Francesco Saverio Pelosi. Il provvedimento riguarda plurimi e gravi episodi di violenza. Il reatto contestato dal magistrato agli agenti della penitenziaria punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque con violenza o minacce gravi oppure agendo con crudeltà cagiona sofferenze fisiche, trauma psichico o altro a persone private della libertà personale. Le indagini della magistratura torinese non riguardano solo le persone oggi sottoposte a misura cautolare ma anche altre indagate a piede libero. Attualmente l'inchiesta della procura torinese è ancora in corso per accertare eventuali responsabilità penali di altri soggetti e l'accertamento di altri eventuali episodi analoghi. Per questi motivi, essendoci il rischio di inquinamento delle prove, sono scattate le misure cautelari.